Sono Elena Bulfone, la presidente della Fondazione Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia. È una grande fondazione la nostra che si occupa di ben 92 persone con autismo. Sono Enrico Baisero, sono il direttore generale della Fondazione Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia Onlu, sono il papà di Alessandro, faccio questo come volontario, in realtà io sono un ufficiale degli Alpini. Sono Ilaria e dal 2008 lavoro presso il negozio di Decathlon Udine. Da sempre sono vicina al volontariato e la mia azienda mi ha dato la possibilità di proseguire questo mio sogno. Quindi dal 2013 mi sono avvicinata alla Fondazione Decathlon, ho conosciuto tra le varie associazioni anche il progetto Autismo, dal quale poi è nato un bellissimo progetto di nome Decathlon for Autism. La meraviglia del progetto con la Fondazione Decathlon è proprio di averci permesso di avere queste strutture esterne per le attività sportive che sono fondamentali per le nostre persone per attivarsi in giochi e attività di gruppo implementati anche dall'attenzione con soggetti esterni. Tantissime persone giovani che entrano e portano la loro sferzata di allegria e di vitalità alle nostre persone, spesso poco incluse nella vita sociale. Allora le attività motorie a progetto Autismo hanno una valenza fondamentale per i nostri ragazzi, le abbiamo distinte in due gruppi di lavoro, sono le attività motorie propriamente dette, una trentina di esercizi, e le attività di gioco che servono ai ragazzi per fare sport, fare attività metaboliche, diciamo divertendosi. Per questo si è venuta in soccorso Decathlon creando per noi un'area di gioco, abbiamo creato appunto il campo di calcetto, il campo di basket e il campo da palavolo che è particolarmente indicato nell'autismo. Il progetto però non si ferma qua, consisteva anche nell'inserimento a livello lavorativo di alcuni dei ragazzi presenti in questa bellissima realtà. Stiamo attivandoci con dei ragazzi non avviabili al lavoro, che entrano in Decathlon e spendono tre ore del loro tempo in attività lavorative, supervisionate dai loro educatori e dagli operatori Decathlon. Questa è una grandissima opportunità per includere e far sentire importanti e di valore le nostre persone.